Quindi le variabili gestionali sono sempre complesse, ma convidiamo nella capacità operativa e organizzativa di tutti noi che siamo abbastanza rodati e di pedo di una cultura di questa città, di questa amministrazione che da sempre non solo ci è vicina ma è una delle attrici principali del sistema di accoglienza sul territorio. Questo porto è un straordinario esempio, di pedo, da qui questo esempio va allargato a tutto il territorio e sono sicuro che non solo i sindaci, anche io con il vostro aiuto, aiuteremo i sindaci a spiegare alla gente che prendersi poche persone, quindi non potrebbero gestire, non creare problemi sul territorio ed evitare che un problema avvenga nel territorio a fianco. Non si può essere solidari tra italiani, ma la solidarietà tra italiani è un valore costituzionale e mi sembra una cosa necessaria, diciamo così. La costina morfidana, la costina morfidana, la costina morfidana, la costina morfidana farà anche lei a lo sapere.